In quei giorni Angelo Sino, il fiduciario di Cosa Nostra, che ogni giorno tratta con Confindustria la percentuale che spetta alla mafia su tutti gli appalti dell'isola, sa già che contro Rostagno c'è una condanna a morte, ma essendo un businessman valuta anche il danno che può venire dall'omicidio di una persona così conosciuta. L'ora va dal proprietario di RTC consigliandogli di farlo smettere. Ho cercato di non farlo uccidere, dichiarerà rispondendo a un magistrato. Allora, l'aura è qualcosa di impalpabile. La mafia si diceva una vecchia frase, è aria che cammina. C'è un'espressione di un poeta milanese che si chiama Maiorino recentemente di tutto quello che ci sta succedendo intorno, dice che c'è una specie di aria dell'aria. Ecco, allora mi piaceva cominciare questa conversazione proprio di qui. Cioè, in questo libro si respira mafia. Ecco, tu come mai l'hai respirata così tanto? Cioè, qual è il profumo la puzza della mafia, secondo te? Ma, dunque, prima di tutto buonasera e grazie a Piero. Il libro a cui Piero pariviarimento e di cui adesso parliamo è Mala Storie. Ed è un libro di storie della malavita milanese scritto direi negli ultimi trent'anni. E poi parleremo di come è scritto e di come è stato montato e anche io voglio leggere un pezzo. Ma, dunque, io sono andato, sì, la prima volta, non so, i miei rapporti con la Sicilia sono, sì, datano dai primi anni Ottanta. Mi ricordo una cosa lunga che avevo scritto sui funerali di Pio Latore e poi sono sempre tornato regolarmente e poi a un certo punto mi sono addirittura stabilito lì e ci sono stato stanzialmente, diciamo, per 4-5 anni. E perché uno dice questo? Mancamente, diciamo, c'è in... io sento lì da... dividiamo le cose in due, anche se una è più, diciamo, semplice, l'altra deve essere più profonda, evidentemente. Io ho fatto la parte, il contrario di quello che fanno altri, cioè sono andato al sud a cercare lavoro, cosa che non fa nessuno, no? E avevo visto che c'era un, diciamo, un mondo, insomma, che non era esplorato e se vogliamo dirla banalmente c'era anche un mercato, no? Io facevo dei filmati per la televisione, per mix, di storie che si chiamavano storie di piccola mafia e siccome non ci andava nessuno da quelle parti, paesi, cose, eccetera, avevo questo... avevo sviluppato questa... questa nicchia, diciamo, questa cosa. Però in effetti, insomma, c'è di più. C'è la sensazione di stare... io sono torinese, quindi 1200 km di distanza e tutto quanto, tutto diverso, ma c'è la sensazione di stare in un posto in cui molte cose vengono messe alla prova, molto di più che non in altre regioni d'Italia, in altri posti. Viene messa alla prova il coraggio, viene messa alla prova l'amicizia, si incontra spesso il tadimento, il sospetto, molto spesso il dubbio. Infatti mi ricordo che una delle prime cose che mi disse, se vuoi capire la Sicilia, devi dubitare di chiunque, vedi, no? Poi dubitare del tuo miglior amico che conosci da tanto tempo e poi alla fine, quando hai cominciato a dubitare di te stesso, allora incomincia a essere nella parte che compete. Diciamo, è questo genere di cose qui, è una cosa molto intensa, insomma, io mi ricordo che avevo sempre voglia di andare in Sicilia, però tutte le volte che ripartivo con l'aereo ero anche molto sollevato, questo come stato d'animo, però è quella cosa lì, insomma, che uno continua ad andare. L'altra cosa però è che in quegli anni e in particolare nei primi anni 90, io perlomeno la sentivo così, c'era una sensazione che la mafia si sarebbe potuta vincere, no? Cioè, successero tante di quelle cose insieme, dopo le bombe a Falcone e Borsellino, una reazione popolare in una città come Palermo che era considerata la città irredimibile, la città dove, e invece era la città che era scesa in piazza, tutti questi soldati di Cosa Nostra che venivano arrestati si pentivano, 1500 e non uno, era considerato il più grande esercito criminale del mondo, cioè gente che si sarebbe fatta ammazzare, eccetera eccetera, e invece disertavano a fiocchi proprio, no? E quindi c'era questa impressione. Ora il libro che è composto in realtà da due libri, perché la prima parte di questo libro uscì nel 93, la prima parte risente di questo finale di speranza, mentre invece questa speranza io non ce l'ho più adesso, a 17 anni di distanza. Mi sembra che diciamo il sistema mafioso, il sistema che lì veniva raccontato, abbia in realtà vinto, sia diventato in qualche maniera istituzionale, sia parte integrante, se non ufficiale, almeno ufficiosa, insomma del nostro modo di vivere, della nostra economia soprattutto, della nostra politica e tutto quanto. Quindi in una situazione in cui tra l'altro non viene neanche più richiesto alle persone di fare parte, non so se vi ricordate, c'è stato un periodo in cui la parola che veniva più pronunciata da tutti e per battere la mafia non solo ci vuole la polizia, gli magistrati, eccetera, ma ci vuole la società, la società civile che faccia, no? Fin da bambini, fin nelle scuole, la legalità, insegnargli e poi partecipare, ma tutto questo credo che non si dica più tanto. In particolare noi siamo abituati storicamente in Italia a sapere che un partito, la democrazia cristiana è sempre stato legato alla mafia, no? Storicamente. E quindi non è che ci aspettiamo che dalla DC o dai suoi eredi vengano questi appelli, però insomma l'opposizione in questo paese della rotta alla mafia verrà sempre fatto una bandiera. Purtroppo a me sembra che questa bandiera sia stata tolta, ripiegata e che il tema non compare neanche più nell'agenda dei partiti politici di opposizione, non interessa più molto a nessuno. Perché questo sia successo francamente non lo so. Cioè se sia per disinteresse, se sia perché il nemico è considerato troppo forte non vale la pena di... se sia per paura anche perché una delle caratteristiche della mafia è proprio quella di incutere paura, no? È una cosa che forse tante persone non sentono perché non sono a contatto, no? Il Censis che è il nostro istituto di... il Censis insomma dice che il 20% degli italiani sono a contatto con la mafia, cioè nella loro vita quotidiana vengono in contatto perché o pagano il pizzo o fanno altre cose eccetera eccetera. Il 20% non sono pochi, però credo che qui se dovessimo... nessuno che abbia avuto dei rapporti e delle incontrate, però insomma questa cosa qui esiste e la capacità di intimidazione della mafia medesima è molto alta. Ti interrompo, anzi ti vorrei guidare io un po' in una conversazione perché mi hai fatto venire in mente una delle poche volte che ho lavorato in Sicilia, cercavo delle informazioni e sapevo che c'era un ufficiale dell'arma dei carabinieri che stava in una città siciliana, quindi vado a chiedere a lui, vado sotto, io con questo signore l'avevo visto due volte in due conferenze stampa, gli davo del lei ed era reciproco e ad un certo punto mi fanno passare, il maresciallo non mi vuole far passare, ma come lei è un giornalista eccetera, io ricordo questa roba che mi hai fatto venire in mente, parlando del dubbio e di come è difficile incontrare delle persone, io entro finalmente, mi fa salire, accede, lui mi vede e dice ma sì, fa lei, eccola aprico, scusi eh, posso abbracciarla? Io sono rimasto di... cioè eravamo due strani praticamente. Fa guardi, ho la soddisfazione di parlare con uno che so che fa il giornalista, perché qui arrivano persone che dicono che fanno i giornalisti ma non so se lavorano per i giornali, se lavorano per la mafia, se lavorano per i servizi segreti, io non so per chi lavorano e quindi quella roba mi aveva a... come dire, era stato un incontro per me allucinante, poi proficuo però dicevo ma guarda questo com'è conciato, però io invece voglio dire che leggendo questo tuo libro è chiaro che dentro di te ci può essere sempre il dubbio come c'è sempre dentro ognuno di noi quando facciamo questo mestiere, però tu hai un atteggiamento, il paragone è immotivato e non è standaliano, cioè tu quando narri queste storie sembri come quei libri di viaggio degli inglesi oppure come i libri di standal quando arrivi in Italia, perché tu racconti delle storie abissali e preoccupanti, però mantenendo un rigore, un divertimento, una penna che è un po' diversa dagli altri libri di mafia, di cui poi parliamo dopo, perché secondo me quello che hai detto prima sul fatto che la bandiera sia ammainata è vero e non è vero, ma prima ti volevo chiedere un po' di questo tuo atteggiamento narrativo, hai trovato una cifra tua, è la tua cifra, l'applichi dappertutto, è la mafia, è la Sicilia che ti spingono ad avere un occhio nordico, hai detto tu prima 1200 chilometri, da dove ti viene questa cosa qua? Non so neanche io, però è vero, c'è una cosa, è così, è l'osservazione di un mondo che io guardo sempre con stupore, molto, con ingenuità, non riuscendo a capirlo, cercando di andare più a fondo, eccetera, molto spesso mi sono accorto, cercando di mettermi, cercando, perché poi uno non ci riesce, di ragionare come ragionerebbero invece delle persone che non conoscono, non so, riuscire a capire perché una persona compie 150 omicidi perché gliel'ha ordinato, è un suo capo, per cui ha una venerazione tale che lo chiama madre natura, cioè è difficile, questo è questo ultimo, spatuzza, che si racconta così, sono persone difficili da, però all'interno anche di queste persone in certi momenti hanno dei momenti di eroismo, di cosa, di, come posso dire, sono, ecco, io cerco di mantenere quell'atteggiamento di distacco, in realtà la cosa mi ha molto, ho sempre, diciamo, coinvolto, commosso molte volte, no? E questa è una ragione, molto spesso i libri di mafia sono libri giudiziari, no? Cioè sono praticamente verbali, rimesse in lingua, no? Alcuni poi arrivano prima, alcuni arrivano dopo, altri meglio, altri peggio, però sono quelli. Io, non so, forse per l'esperienza che ho fatto, che è molto spesso un'esperienza di piccoli paesi, di piccola mafia di paese, prima di sbarcare finalmente a Palermo, nella capitale della mafia, ho seguito un po' dei percorsi più periferici, più cose che hanno dato, credo, il tratto di questo libro, ecco. Però devo dire che c'è un'affezione vera, insomma, per questo posto, per queste persone. Cioè sembri una specie di turista informato, diciamo, che hai questo tratto, cioè è vero che dubiti di tutto, eccetera, però in fin dei conti noi veniamo da una cultura mediterranea per cui abbiamo sempre l'illusione di voler conoscere noi stessi e di dubitare di tutto, no? Quindi tu questo atteggiamento lo mantieni. E infatti la differenza abbastanza notevole tra questo libro e molti altri libri che stanno uscendo in questo periodo, perché la cosa strana, vedete, in questi giorni si parla molto delle intercettazioni telefoniche, no? E di altre robe che tendono a limitare e schiacciare la libertà di stampa. Ecco, comunque là si pensi sull'argomento, ne penso malissimo, diciamo, su quello che vogliono fare, ma al di là di questo, però la libertà e la verità non sono comprimibili. Soffrono, ma ad un certo punto... E allora la mafia, per esempio, è sparita dall'agenda politica. Cioè nessuno parla più di mafia se non abbiamo catturato i latitanti. Un giorno, magari tra vent'anni, i nostri nipoti sapranno se per caso erano i perdenti che sono stati potati via dai vincenti o che cosa sta succedendo veramente. Ma comunque, al di là di questa storia, i giornalisti oggi stanno producendo un sacco di libri, Alfio Caruso ha scritto Milano ordina uccidete il Borsellino, Attilio Bolzoni sta uscendo con un altro libro, altri ancora. La Licata. La Licata con il libro di Ciancimino. Quindi, se è sparita dalla, come dire, dall'agenda politica, nella saggistica la mafia è tornata. Questo è una cosa abbastanza importante. Ma, a proposito del tuo... No, però, fammi dire una cosa. Sì, assolutamente. È una... Io non so se considerarlo, diciamo, surreale o stupido questo atteggiamento che ha il governo sulla, no? Non si può più pubblicare questo, ci sono multe milionari, eccetera, eccetera. Cioè, è una cosa che credo anche chi propone si deve rendere conto è impossibile, no? No, in realtà è possibile, perché se ti danno delle multe grosse è possibile. Non si può dire, però, ricomparirebbe in un'altra forma, no? Esatto. Ricomparirebbe attraverso internet, ricomparirebbe in qualsiasi maniera. E come quando c'è la scena... Saremo corso di affare come i criminali, faremo, apriremo un sito in Bulgaria con un server da un'altra parte e pubblicheremo le lente accettazioni di Anemone, non cambiamo... E come quando c'è la scena del delitto e c'è la polizia che dice circolare, circolare, non è successo niente, no? Andate via, non c'è niente da vedere, non c'è niente da vedere, andate via. Cioè, questo cercare di impedire, diciamo, alle persone di sapere delle cose che succedono nel mondo che ci circonda, no? Cioè, perché uno non deve sapere che il ministro compra la casa con i soldi, gli asseni circolari, eccetera, eccetera, è ovvio, sarebbe stato vietato, ma in qualche maniera si sarebbe venuto a sapere lo stesso, anzi sarebbe stato peggio, no? Perché si sarebbe venuto a sapere sotto forma di voce, di cose, cioè sarebbe un ritorno all'indietro, un ritorno a tempi medievali, insomma, di circolazione di notizia. Per cui io non... Evidentemente c'è un terrore, insomma, di questa... Mi ricordo un po' la legge per Eluana che volevano fare, poi alla fine il Presidente del Consiglio non la firma, cioè il Presidente della Repubblica magari non la firma perché ci sono dei diritti costituzionali che infatti non sono ancora stati manomessi ed è difficile tornare indietro. Però io volevo leggere un altro peso, volevo leggere a voi, chiedo sempre scusa per la mia dizione, però c'è una cosa che mi fa... per spiegare perché il libro di De Aglio è davvero diverso dalla stragrande maggioranza dei libri che trattano dell'argomento mafioso. Capitoletto, non lo leggo tutto, dentro i tessuti del killer. All'Istituto di Medicina Legale di Messina la telefonata arriva in media ogni due giorni e mezzo. Il professor Francesco Aragona consulta l'orario dei propri impegni didattici, controlla la valigetta, chiama il suo assistente Luciano e si prepara a partire. Salgono sulla vecchia 127 di Luciano e vanno in qualche cimitero di campagna, spesso oltre lo stretto, nella Spromonte. Da tempo, mi dice Aragona sfogliando l'agenda dei suoi impegni, non c'è più emozione. Al telefono mi dicono soltanto, professore venga, c'è il solito morticino. È lo humor nero di casa negli obitori di tutto il mondo. I medici legali di Messina, l'ondata di violenza, la chiamano un sensibile aumento delle intossicazioni acute da piombo. Poco fa, mi spiega il professore, mi è capitato di eseguire l'autopsia su due giovani uccisi a Reggio Calabria dentro un'auto. Il guidatore era stato colpito a morte senza che potesse difendersi, solo un braccio alzato a protezione istintiva. Quello che era seduto alla sua destra, invece, aveva avuto il tempo di aprire lo sportello ed era stato colpito mentre tentava la fuga. C'era da pensare che il terrore fosse più evidente nel secondo e, in effetti, alla prima osservazione pareva proprio così. Il cadavere presentava tutti i segni tipici della sindrome della fuga, quel complesso di meccanismi ormonali, conosciuto da secoli, che gli animali e l'uomo mettono in atto quando sono in pericolo. L'orripilazione, ovvero i peli che si drizzano, la pupilla che si dilata, il cuore che batte più velocemente, la sudorazione fredda, sono tutti effetti di una scarica improvvisa di adrenalina prodotta dalla ghiandola surrenale. Nel primo cadavere, oltre a questi segni classici, c'erano però anche altri reperti che testimoniavano di un organismo che viveva da molto tempo in stato di allerta, di stress. Infatti, mentre il ragazzo che aveva tentato di scappare risultò poi essere un passeggero casuale, il guidatore era una persona che apparteneva a una famiglia che aveva già avuto tre o quattro morti ammazzati. Quell'autopsia è stata per me l'ultima conferma di quello che vado studiando da molti anni. Dall'esame dei tessuti si possono riuscire a distinguere le vittime cosiddette innocenti da quelle che io chiamo vittime provocatrici, persone cioè che per la loro attività o anche solo per il loro nome provocano l'omicidio. Queste vittime sono oggi in grande aumento e nei loro organi interni hanno molto spesso le stimmate che raccontano la loro vita. Queste persone difficilmente riescono a convivere tranquillamente con una tale tempesta di ormoni. Allora, a me questo piccolo pezzo del libro mi è molto piaciuto perché di autopsie, di CSI, di RIS e di altre varie amenità televisive noi ne abbiamo viste, ne leggiamo. Però questa è una delle poche volte in cui si sente parlare un personaggio che le autopsie le fa veramente, non per il cinema e che nota una cosa che tutti quelli che conoscono la strada o vivono la strada sanno, per esempio, che i rapinatori muoiono quasi tutti di infarto perché la vita del fatto di entrare in una banca con la pistola in pugno e poi uscire e essere inseguiti ha come malattia professionale del rapinatore, scusate che non è una professione, ha l'infarto. E il fatto che questi mafiosi abbiano questo tipo di degenerazione, questi ragazzi. Allora, ti volevo dire, guardando sempre dalla strada, da questi personaggi che tu hai incontrato, chi ti ha dato le chiavi di lettura più interessanti per capire la mafia? Qualche altro medico, qualche prete, qualche ragazzo di borgata? Chi ti ha aiutato di più? Dunque, prima di tutto un po' di mafiosi li ho conosciuti, ci ho parlato, eccetera. Per esempio, non so, io ho avuto un colloquio piuttosto lungo anche con Totuccio Contorno, questo Totuccio Contorno era uno famoso, era il pentito numero due dopo Buscetta, no? Anche Buscetta l'ho ricordato ma puggevolmente, eccetera. Invece avevo incontrato, avevo parlato un po' nel libro, c'è la famosa Ninetta Bagarella, cioè la moglie di Totò Iina, che peraltro mi aveva anche abbastanza in simpatia, per cui ho sempre pensato che a Corleone ero in qualche maniera protetto, insomma, potevo andare tranquillamente perché Ninetta, insomma, mi volerà bene. E poi ne ho incontrati altri. Ma, dunque, sono stati, sì, dei medici, degli psicologi, c'è stato un vicequestore di Agrigento che si chiama Filippo Nicastro, che mi aveva dato moltissimi, un altro mio amico di Agrigento che è citato, che si chiama Franco Castaldo, che è falconista da trent'anni, lì. A Palermo alcuni amici scelti, alcuni magistrati anche. Direi una sorta di, una serie di persone che si sono sedimentate nel tempo e dalle quali ho sempre ricevuto, diciamo, le... Ed è questo strano, perché tante volte uno pensa di aver raggiunto, di sapere già una cosa come è andata, e poi vede che il suo interlocutore, di cui si fida da tanto tempo, dice, sì, hai ragione, ma non è proprio così. Infatti non è proprio così, succede molto spesso. Invece, per quello che volevo dire, la parte medica, i mafiosi morono in genere di cancro quando non morono ammassati. Morono in genere di cancro e molto spesso di cancro alla gola. E anche questo non è scientifico, non c'è niente. Però è strano, buscetta, per esempio, che morì di cancro alla laringe, anche badalamenti. Insomma, c'è qualcosa di collegato con la parola che mi ha sempre dato così, mi ha interessato. Non so se qualcuno si ricorda, buscetta aveva una voce stranissima. Cioè, parlava a voce normale, poi improvvisamente diventava quasi afono. Andava giù, 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 e poi riprendeva. E questo, per esempio, come i siciliani dicono la parola mafia, è molto strano, no? Per esempio, un uomo politico siciliano dice, dobbiamo combattere contro la mafia e abbassa di un'ottava, no? Inconsciamente. E poi c'è stato un periodo, invece, in cui andava di moda, di dire, combattiamo la mafia, no? E allora si alzavano di una cosa. Infatti mi ricordo che c'era un mio amico che parlando di una professoressa ha detto, guarda quella lì è una persona eccezionale, bravissima, eccetera. Ha sempre detto, mafia col tono di voce giusto. Senza alzarla e senza abbassarla di un'ottava. Era molto male. No, infatti io, diciamo, del libro, ma giusto perché siamo a Milano, ma ho una sola polemica. Infatti ti invito, con il passare del tempo, a riconsiderare. Perché noi a Milano abbiamo avuto, tra i protagonisti di alcune inchieste, il cosiddetto capitano ultimo, quello che poi ha arrestato Torino a Palermo. Allora, su questa storia della cattura di Rina a Palermo si è aperta veramente una faglia giornalistica tra chi dice che è normale e c'è chi dice che è anormale quello che è successo. Io sono deviato dal fatto di aver conosciuto la stragrande maggioranza dei carabinieri un po' sfigati che hanno lavorato insieme ad ultimo quando erano a Milano a un'inchiesta che si chiamava Duomo Connection. I più giovani non la ricordano, ma era un'inchiesta molto strana. Perché i mafiosi, arrivati a Milano con un cantiere, avevano pagato una tangente all'assessorato all'edilizia di Milano 1989. E quando noi scrivemmo questa storia, è impossibile, ma figuratevi se a Milano si pagano le tangenti per costruire. Poco dopo venne fuori Tangentopoli. Quindi, allora, era Carollo, è mitico, ma di una famiglia molto importante di Palermo, famiglia in senso mafioso. Ma, ecco, quello che io credo di conoscere, perché secondo me le biografie delle persone non vanno sottovalutate. Il pensiero che questi carabinieri, secondo alcuni colleghi giornalisti, anche secondo alcuni sostituti procuratori, potessero avere una trattativa con la mafia, è qualcosa che mi ripugna. Perciò ti dico, io li conosco e mi fido e penso che quello che viene raccontato non sia avvenuto, infatti sono stati assolti. Ti invito per l'edizione prossima, diciamo tra ancora dieci anni, di verificare che cosa è successo e di chiedersi se per caso Totorrina e poi, diciamo, dopo i vari fiancheggiatori di Totorrina non abbiano voluto sporcare, ci sono in parte riusciti, la prima volta in Italia in cui un capo mafia viene preso e sbattuto sull'asfalto di Palermo, mentre è nella sua città impunito e sicuro. E peraltro, concludo questa difesa non richiesta, la strategia, cioè scritta, di questo gruppo di carabinieri era di colpire e sparire. Nel senso, dicevano, noi dobbiamo fare esattamente come le Brigate Rosse all'inizio facevano con gli uomini dell'istituzione, cioè loro nell'illegalità, colpire, non si sapeva chi fossero, eccetera. Noi dobbiamo fare lo stesso, perché se noi catturiamo due o tre mafiosi e i mafiosi non sanno da dove gli arriva il colpo, parleranno, si scompagineranno e siccome noi abbiamo piazzato uomini, microspie, le famose telecamere, telefoni dappertutto, nel momento in cui loro parleranno saranno vulnerabili e ne prenderemo cento. Questa era la strategia del Capitano Ultimo, per cui io ti volevo solo invitare a, così, magari più avanti a ragionare. Penso che stiava pensando anche il Capitano Ultimo su quello che successe nel 1993. Secondo me non c'è. Ci sta pensando molto. Allora, per farla molto breve, la seconda parte di questo libro, il primo finiva nel 1993 proprio nell'immediatezza, subito dopo l'arresto di Reina. Io ero presente quel giorno e scrivo anche un po' da ingannato particolare, perché io sono stato ingannato, come tutti gli altri giornalisti che erano presenti. C'era una serie di cose che adesso diventerebbe troppo lungo e dettagliato scrivere, ma comunque la verità di quell'arresto è dispiace dirlo che Reina è stato consegnato, in realtà è stato consegnato da Bernardo Proverzano tramite Vito Ciancimino, cioè il papà di questo ragazzo che adesso parla, con un bel concerto di carabinieri, di servizi segreti e questo è stato fatto, non solo, ma è stato fatto rispettando assolutamente quelli che erano i patti, nel senso che è stato detto si piglia lui, però si lascia stare la sua famiglia e si porta via tutto quello che sono i suoi documenti, le sue cose, eccetera. Così è stato, Reina è stato preso, la moglie con tutti i suoi vestiti, le pellicce, tutto quanto è partito il giorno dopo per Corleone, nessuno l'ha mai disturbata fino adesso, la casa come voi sapete è stata completamente svuotata, la cassaforte è stata tolta, tutto è stato tolto e quando ci sono andati dopo 20 giorni i magistrati hanno detto ma la sorvegliavi tu, no la sorvegliavi tu, la sorvegliavi tu, hanno trovato una casa completamente vuota, bianca, intonacata, eccetera, eccetera e questa è la storia del Corito Torino. All'interno di questo, l'ultimo sicuramente ha fatto delle ottime indagini ed è un tipo piuttosto curioso anche lui perché questa sua teoria, lui ammira Ceghevara, lui ammira Rommel, ammira il ragazzino cinese che sta davanti i carri amati, dice queste frasi tipo ho visto Iina e ha spaventato, un capo non deve mai spaventarsi, insomma, sono questi, è una specie di rambo, no lui? No, è il contrario, è una specie di rambo italiana ed è effettivamente la prima volta che l'arma dei carabinieri produceva un personaggio di questo genere, io credo che l'arma anche abbia spinto diciamo per la sua popolarità, no, è diventato poi Aulbova, è diventato un personaggio televisivo, insomma tutto quanto. No, la chiudiamo, ma... Ostiva, il capitano ultimo che oggi è colonnello, l'hanno messo a fare le provette. Credo che anche lui si stia facendo venire qualche dubbio su cosa è successo esattamente quei giorni. Vabbè, non voglio polemizzare, è un dettaglio, però tra dieci anni io spero che tu mi dia ragione con la tua lealtà. L'amore di Conaca che anche lì c'era un'aura in quei giorni. E cavolo no? E cavolo? No? Tanto è che noi stavamo girando e la voce era che avrebbero preso Rina a Corleone e mi ricordo che alle otto e mezza quando la notizia non era ancora ufficiale non c'era niente venne un redattore di una televisione TGS telegiornale Sicilia che diceva dicono che hanno preso Rina a Palermo e io telefonai subito alla persona con cui ero in contatto che si occupava di indagini antimafia che è l'attuale capo della polizia Antonio Manganelli e dall'altra parte della cornetta diceva ma porca no? Cioè l'hanno preso i carabinieri e non l'abbiamo preso noi questo era il clima Va bene Comunque a proposito di Aura c'è un'altra un'altra bellissima storia che tu racconti che è quella di Rosario Crocetta è abbastanza cioè sta diventando un po' più noto anche a livello nazionale no? Sindaco di Gela allora si racconta di tutta in questo libro di quando così il boss viene preso anche in questo caso viene c'è una sparatoria la polizia uccide il capo Emanuello di Gela e anche qui succede una cosa strana che leggo sempre dal libro ma quando il cadavere viene messo su un tavolo settorio per l'autopsia si scoprì quello che nemmeno gli sceneggiatori di Twin Peaks o di CSI posserebbero proporre il morto aveva inghiottito prima di fuggire diversi pizzini che ora si trovavano nella gola nell'esofago e nello stomaco quadratini di carta di 5 cm di lato scritti fitti fitti avvoti in un sottile cellofan papiri arrotolati destinati a morire con il faraone ma anche le credenziali che il boss scampato all'arresto avrebbe cacato intatte come tanti ovuli di cocaina e avrebbe sciorinato di fronte alla commissione di Cosa Nostra sempre che esista ancora o forse erano solo amuleti ma incredibilmente i pizzini lo hanno tradito il sottile strato di cellofan ha resistito i succhi grastici e uno dopo l'altro i quadratini sono ricomparsi con il loro inchiostro intatto quindi poi ci saranno le indagini gli arresti tutto quanto ci sarà la famiglia di Emanuello che se la prende con il sindaco Rosario Crocetta e c'è questo dialogo che io trovo fantastico ne leggo solo una un piccolo pezzettino e tu chiede Deaio potresti essere il bersaglio di un omicidio politico mediatico certo che sì il sindaco antimafia di una piccola città il sindaco che ha fatto uccidere Daniele Emanuello una volta glielo chiesero anche in televisione del suo possibile omicidio e rispose ci penso certo l'unica cosa che mi secca è che saranno loro a scegliere il momento questa è una frase bellissima che non stento a definire eroica la frase della grande consapevolezza che hanno molte persone che lottano contro la criminalità organizzata sanno che ci può essere nel conto una pallottola qualche cosa ciò nonostante nonostante lo Stato non mi aiuta nonostante mi mettono i bastoni tra le ruote nonostante mi devo guardare dai miei collaboratori nonostante questo quello quello io resto cioè che una anche questa come la libertà e la giustizia è una profonda dote dell'uomo migliore la tenacia no? come la tenacia siciliana che cos'è? è una cosa veramente strana perché se uno ci pensa perché restano quando tutto congiura conto quando non c'è nessun aiuto per esempio Falcone questa cosa qui la sentiva molto Borsellino anche Borsellino l'altro giorno alla fiera del libro al salone del libro di Torino c'era in Groia che era suo maestro che sta finendo un libro lo anticipava e ha detto che Borsellino era ossessionato dall'idea di morire a 52 anni ma non per per mano mafiosa ma perché suo padre era morto a 52 anni e suo nonno era morto a 52 anni ed è morto a 52 anni in effetti insomma da una parte c'è fatalismo e così questo spirito d'altra parte questo è molto è molto bello la tenacia che c'è lavorare in ambiente ostile lavorare quando tutto intorno ma anche tra i tuoi colleghi anche tu senti che c'è qualcuno che non lavora con te che ti rema conto che forse è una spia no le talpe le cose eccetera questa cosa qui è l'aspetto l'idea che ci sia che ci sia ancora no io dico ancora una una serie di persone di a tutti i livelli è una cosa incredibile questa e questo la Sicilia in particolare Palermo l'ha sempre avuto no se uno pensa alle città di mafia in tutto il mondo a Chicago quando c'è stata a Miami a Medellin Bogotà tutti questi posti che hanno i gangster che impassano dominano non ha visto mai manifestazioni di massa o comitati spontanei o lenzuola alla finestra contro i gangster eccetera e invece Palermo li ha visti e continuano c'è sempre stato questo tra l'altro spiega la ragione per cui ci sono tanti morti ammazzati no e ce ne sono stati tanti meno a Catania per esempio Catania non si è mai rebellata infatti non hanno mai avuto bisogno di ammazzare più di tanto c'era solo Giuseppe Fava che rompeva l'anima e quindi l'hanno ammazzato i giornalisti vengono spesso ammazzati in Sicilia questo sì infatti a proposito di Falcone Borsellino ho trovato che tu diciamo sei abbastanza laico poi da notare anche dettagli un po' surreali tipo il fatto che mettono nel parcheggio una targa un po' come dire un po' assurda no? però quelle cose retoriche che a volte si dicono Falcone Borsellino sempre vivi e poi arriva una mano ignota a spray e scrive belli freschi ecco qua c'è il cinismo la cattiveria la battuta e secondo me il fatto di riportare queste cose aiuta a comprendere che tipo veramente di 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 umorismo macabro e di cattiveria sotterranea e sottocutanea ci sia quello ma anche diciamo per esempio questa lotta che c'è intorno alle lapidi è una cosa importante che è quotidiana cioè le lapidi vengono continuamente vandalizzate le lapide impastato la lapide Falcone la lapide Borsellino l'altro giorno l'albero Falcone ma ogni giorno ce n'è una è una sorta di no? di come si dice il territorio è nostro quindi non azzardatevi neanche a mettere il segno di un nemico dall'altra parte e così come gli altri episodi anche questo è curioso sono due sintomi da segnare sul taccuino l'altro giorno a Reggio Calabria l'avete visto in televisione hanno arrestato questo capo mafia e la popolazione cioè i suoi 500 persone si sono presentati davanti alla questura applaudendo lui no? c'è anche un signore che aveva il figlio il figlio sulle spalle no? che gli dice guarda guarda e la stessa cosa è successa in un paesino della Sicilia di Agrigento me l'ha detto per telefono a Castro Filippo c'era un boss condannato all'ergastro eccetera a cui hanno dato un permesso di tre ore per un lutto familiare e il boss è arrivato per queste tre ore al cimitero e c'era tutto il paese ad applaudirlo e poi se ne è andato via quindi vengono fuori insomma io penso che non stiamo andando a dei periodi di grande silenzio adesso forse ci sarà silenzio perché nessuno scriverà più niente eccetera però gli assetti come si dice come dicono i mafiologi gli assetti cosa nostra dove vuole andare la seconda generazione di cosa nostra i grandi appari la politica il partito del sud che forse nasce a e queste cose qui sono sono il segno che in qualche maniera un ciclo sta andando alla fine il ciclo è quello che dura da 15 anni più o meno insomma in cui la mafia in particolare quella siciliana non ha più commesso omicidi eclatanti cioè di personaggi delle istituzioni ha continuato bellamente ad ammassare però insomma come sapete ci sono gli omicidi cadaveri eccellenti e poi ci sono i cadaveri di cui non gli ne frega niente a nessuno ecco e perché insomma bene o male insomma qualche patto deve essere stato conservato deve essere stato fatto è quello che io penso e che scrivo in questo libro i segnali sono che adesso forse diciamo le ragioni di questa società stanno stanno cominciando a diminuire insomma perché i protagonisti tra l'altro invecchiano ci sono persone nuove c'è una seconda generazione io mi sono accorto che dalla prima parte del libro alla seconda infatti c'è un elenco alla fine di come sono morti tutti e così ecco però insomma ce la teniamo ma poi se Scarpuzzedda famoso killer aveva una delle più brillanti maturità classiche di Palermo i discendenti perché non dovete pensare appunto al mafioso come un baluba armato cioè è una persona spesso raffinata e intelligente e molto cattiva come è sbagliato infatti anche nel libro viene spiegato molto bene come pensare alla mafia come di qualche cosa di siciliano è sbagliato cioè è radicata nel territorio ma è il 1958 quando Joe Adonis primo mafioso certificato sbarca a Milano e si piazza in via al Bricci quindi sono 52 anni che la mafia a Milano qualcuno ricorderà Luciano Liggio viene arrestato in via Ripamonti nel 1974 in un periodo cruciale per Milano è l'unico capo mafia arrestato in città qui da noi voglio dire quindi ci sono una serie di Vittorio Mangano indimenticato Vittorio Mangano eroe per aver taciuto e quindi ci sono queste 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 figure che girano al nord da molto tempo e hanno sicuramente avuto e hanno la loro bella influenza a